Ci aspettiamo da questa missione un ruolo attivo nel richiedere, nel far pressione anche attraverso gli occhi della comunità internazionale, far pressione sul regime di Assad affinché le forze armate siano ritirate dai centri abitati, i carri armati scompaiono dalla circolazione, gli ecidi feroci perpetrati dalle forze di sicurezza terminino. Certamente è una missione di osservatori ancora limitata come sua consistenza, ma che potrebbe essere il preludio anche ad un impegno più significativo delle Nazioni Unite, qualora il Consiglio di Sicurezza e soprattutto i membri permanenti in Consiglio di Sicurezza dovessero riconoscere che oramai la crisi siriana è giunta a un punto tale che potrebbe essere veramente un punto di non ritorno sul piano di una propagazione della guerra civile non soltanto all'interno del Paese, ma anche su effetti estremamente nefasti sui Paesi limitrofi. Un'altra direttrice che potrebbe svilupparsi in Consiglio di Sicurezza con un'azione più incisiva della comunità internazionale e anche, come ha accennato ieri, il primo ministro Erdogan nella visita a Roma, anche con una presenza di due o tre mila osservatori, se il Consiglio di Sicurezza lo deciderà. Ieri lo stesso Annan in Consiglio di Sicurezza ha detto che il suo piano continua a proseguire in un clima di grande preoccupazione, di violazione della tregua da parte delle forze armate, delle forze di sicurezza siriane. È un piano, ha detto Annan, che non è open-ended, cioè non continuerà all'infinito, c'è un processo di verifica del Consiglio di Sicurezza ogni 15 giorni, quindi ci aspettiamo ancora un paio di settimane per veramente capire se è una strada che può dare dei risultati rapidi o se ci vorrà qualcosa di diverso.